Una volta ho parlato con un governante, un uomo che io rispetto e dirò il nome, con Alexis Tsipras. E parlando di questo e degli accordi di non lasciare entrare, lui mi ha spiegato le difficoltà, ma alla fine mi ha parlato col cuore e ha detto questa frase, i diritti umani sono prima degli accordi. Questa frase merita il premio Nobel.